Allora, alla Juventus non dico che scoppi il caso Di Bala, ma certamente fa sensazione la dichiarazione rilasciata da Di Bala dopo la partita col Genoa, in cui dice «è tutto bloccato il mio rinnovo di contratto». Ed è questa sensazione perché in tanti raccontavano che l'attaccante argentino ormai avesse firmato. Ci stanno dicendo che Di Bala ha firmato per la Juventus più o meno da marzo di quest'anno, sono passati quasi nove mesi e il rinnovo, la firma, è sempre rinviata. Abbiamo sentito delle storie anche paradossali, che tutti hanno preso per buone, devo dire anche tanti colleghi in buona fede, ma senza rendersi conto che stavano raccontando una storia ridicola, buon'ultima, quella che a settembre recitava più o meno così. Di Bala e Juve, accordo raggiunto per i prossimi cinque anni, dieci milioni di euro, il procuratore di Di Bala è tornato in Argentina, non ha firmato, ma rientrerà prestissimo per apporre la firma, che ormai è semplicemente un atto burocratico. Ecco, non stava in piedi questa storia, cioè se tu raggiungi un accordo, contestualmente firmi. Se te ne vai e non firmi è perché l'accordo non lo hai raggiunto. Quindi c'è stata tutta una narrazione intorno al rinnovo di Di Bala, che era, diciamo così, molto ingenua nella migliore delle ipotesi. Probabilmente c'è stato anche chi, in qualche modo, ha avuto interesse a far credere questa storia. Di Bala, il suo procuratore, la Juventus, chi lo sa. Evidentemente persone influenti, perché tutti i giornali o le televisioni hanno più o meno raccontato questa storia, che non aveva nessun senso. Non parti e torni dall'altra parte del mondo se hai raggiunto un accordo, se hai venuto posto per firmare. Evidentemente qualcosa non funzionava. Adesso Di Bala annuncia, in maniera improvvisa, nessuno se lo aspettava, che lui non firma perché la Juventus ha altre priorità. E' certo che la Juve ha altre priorità, che non sono tanto la questione delle indagini. Perché, parliamoci chiaro, la Juventus non è che blocca tutte le sue operazioni in cui crede soltanto perché c'è un'inchiesta in corso. C'è evidentemente qualcosa di molto diverso. Forse anche in questo caso fa comodo a tutti raccontare la storia che è la Juventus, adesso altro a cui pensare, e quindi rinnova l'invito a vedersi più avanti. E vedersi più avanti mica tanto, perché Di Bala tecnicamente con l'inizio dell'anno sarà un giocatore che potrà firmare per chiunque. Di Bala vuole rimanere la Juventus? Sembrerebbe di sì, mi pare anche logico. Per un paio di buone ragioni. La prima ragione è che non credo che ci sia un club più prestigioso della Juventus in grado di offrire a Di Bala delle cifre fantasmagoriche. Di Bala è un po' scomparso, se vogliamo, dal grande scenario internazionale. Rimane un eccellente protagonista in Italia, ma quando va all'estero, insomma, se noi andiamo a vedere le partite che Di Bala ha disputato con l'Argentina, che non sono neanche poi tante, Di Bala in tutta la sua carriera ha segnato due gol con la maglia dell'Argentina. E ormai ha 28 anni compiuti. È un giocatore che potrebbe interessare a qualche club inglese di secondo piano. Beh, non dimentichiamo che Di Bala a Torino è considerato un principe, amato e benvoluto. Forse anche al di là di quello che lui ha dato alla Juventus, perché ha l'immagine di questo ragazzo dalla faccia pulita, di questo eterno bambino, di questo adolescente. Lo chiama Bambi, il nostro Matteo Caroni. Ecco, che lui possa casarsi rapidamente in un club di buon prestigio, che gli offra molto più di quello che gli propone la Juventus, mi pare abbastanza improbabile. Ma secondo me il discorso va anche oltre tutto questo. Ed è un discorso che riguarda proprio la nuova filosofia della Juventus, che è quella della sostenibilità. Allora, la domanda diventa, è sostenibile per la Juventus un investimento da 100 milioni in 5 anni? Perché di questo si sta parlando. Di Bala chiede, era partito da 15, poi era sceso a 13, poi a 12, e adesso è arrivato a 10 milioni. 10 milioni vuol dire che sono circa 20 in lordo, quindi sono, noi diciamo 100 milioni, probabilmente saranno 94-95 milioni lordi in 5 anni. Per un giocatore che di anni ne ha ben tutto compiuti, e che negli ultimi anni, se uno va banalmente a vedere quello che ha dato, in termini di gol alla Juventus, essendo lui un attaccante, beh, qualche domanda lecito porsela. Voi direte, sì, Di Bala non è andato benissimo, perché spesso ha avuto degli infortuni. E questo è un problema, non è che avere degli infortuni non debba essere preso in considerazione da una società che deve investire su un giocatore che ha 25, 26, 27 anni, ha avuto più infortuni del normale, e che adesso, diciamo, con un quinquennale, ve leggerà ben oltre la trentina. Allora, se noi andiamo a vedere Di Bala e la Juventus, vedremo che i numeri sono i seguenti. Li cito guardando dal computer. Nel primo anno Di Bala ha giocato 34 partite, ha fatto 19 gol. Fantastico. Era un giocatore straordinario, stiamo parlando della stagione 2015-2016, lui aveva 22 anni ed era il progetto di un fuoriclasse. L'anno dopo Di Bala va un po' meno bene, 31 partite, 11 reti. Ma l'anno dopo ancora, il 17-18, 33 partite e 22 gol. Siamo arrivati. Di Bala è diventato un fuoriclasse. E' certamente un giocatore fantastico, qualcuno lo paragona al nuovo Messi, anche se poi lui nella Fiorentina, nell'Argentina, scusate, fatica sempre a trovare spazio. Bene, siamo però nell'anno di Grazia, 2017-2018, cioè quasi quattro anni fa. Cosa succede nelle ultime tre stagioni di Di Bala? Succede che Di Bala gioca 30 partite l'anno dopo e fa soltanto 5 gol? L'anno dopo ancora 33 partite e soltanto 11 reti. Voi direte, sì, però prima del Covid lui ha fatto una partita fantastica con l'Inter e proprio qui mi pare però il problema di Di Bala. E cioè, Di Bala è quel tipo di giocatore che a volte fa delle cose talmente straordinarie che ti viene da pensare che non puoi perderlo, perché è capace di fare cose che sa fare solo lui. E' vero, certi gol li sa fare soltanto Di Bala in Italia e pochissimi altri del mondo. Il problema è che ne fa pochi. Ne fa pochi e con il passare degli anni, anziché migliorare, è andato peggiorando. Problemi fisici, problemi di concentrazione, problemi personali, non lo sappiamo. e qui arriviamo al nocciolo della questione. Ha senso per una squadra che vuole riscoprire il verbo della sostenibilità, sostantivo, la sostenibilità, dare 100 milioni in 5 anni a un giocatore che ne guadagnerà ancora tanti quando ne avrà 33 gli anni, che non si sa bene come arriverà fisicamente a questo traguardo. E' giusto ogni tanto dire no, che anche la Juventus comincia a dire no, non ci sto. Beh, secondo me sì. Siamo in una nuova era, un'era diversa. Le squadre stanno crollando sotto il peso dell'indebitamento, le grandi squadre, italiane e non, ma soprattutto italiane, che hanno accumulato proprio per soddisfare le richieste spesso irragionevoli di questi giocatori e secondo me avere la forza di dire caro Di Bara, tu vuoi un quinquennale? I milioni sono 6, ne guadagnavi 7,5, negli ultimi anni hai dato molto meno di quello che ci aspettavamo da te, facciamo che sono 6 e poi saliranno fino a 7,5 in 5 anni, cioè un taglio robusto mettendo in preventivo che può anche dire Di Bara no, allora vado altrove. Ecco, quello che a me sembra più interessante di tutto, dell'esperienza che noi stiamo vedendo dei club, dei grandi club, che hanno provato questa inversione di rotta e che se anche dei giocatori importanti vanno altrove, non è che crollino le squadre. Noi abbiamo visto per esempio il Milan perdere Cialanoglu e perdere Donnarumma e riuscire a sostituire, Cialanoglu non l'ha neanche sostituito di fatto, perché poi ha promosso la riserva in qualche modo, no? Brian Diaz e scegliere un portiere che costa infinitamente meno di ingaggio e che forse gioca anche meglio di Donnarumma che Emegnan. Abbiamo visto l'Inter rinunciare a Lukaku, senza il quale sembrava crollasse tutta la struttura della squadra e riuscì a recuperare Dzeko e andare meglio di prima, perlomeno in questo momento, se noi facciamo la sintesi della stagione di Conte fino a dicembre e di Inzaghi, già solo la qualificazione nel Champions League indica che l'Inter ha migliorato. Abbiamo visto l'Inter riscoprire Darmian, che doveva essere una riserva da utilizzare solo qualche volta al posto di Hakimi e andare bene uguale. Ecco perché dico e credo che se la Juventus adotterà una linea più seria, più rigida con Di Bala, non accondiscendere alle sue richieste, dicendo che meno di 10 milioni non si può dare, beh, non è detto prima che Di Bala vada via e secondo che se anche andasse via la Juve paradossalmente magari non riescerà ad andare meglio con qualche scelta più oculata di mercato.